benvenuti sul canale non aperte questo blog io sono il gonz e oggi sono qua per fare un aggiornamento della collezione davvero speciale perché perché cg entertainment mi ha inviato un bel pacco eccolo qua allora dentro troviamo ben 9 film horror alcune novità appena uscite e altri film un po più vecchi tutti i film che ci sono qua dentro praticamente non li ho visti o se li ho visti è passato veramente troppo tempo perché io me li possa ricordare andiamo a vederli uno a uno prima di vedere i film però voglio salutare i simpatici ragazzi che sistematicamente mi vengono a mettere dislike sul video e voglio fargli sapere una cosa sappiate che non mi fate assolutamente un danno facendomi il dislike perché qualsiasi persona sana di mente non vuole l'approvazione di tutte le persone perché essere apprezzati da tutti non è un buon segno nessuno dovrebbe voler essere seguito da persone che non gli piacciono non è giusto piacere a chi non ti piace quindi va bene che mettiati dislike va bene anche che vi siate iscritti alle notifiche per mettere il dislike appena pubblico il video va benissimo anzi per me è una conferma sono molto felice continuate a mettere dislike a farmi le views vi ringrazio tantissimo e vi mando un abbraccio forte come lo manderei ai miei follower ai miei sostenitori e ora godetevi l'aggiornamento della collezione novità nel mondo dell'horror esclusiva cg entertainment jack in the box allora è un film che vede questo questa specie di giocattolo dove da dove spuntano fuori il classico clown è un giocattolo antico e viene portato in un museo ma inizieranno a morire delle persone insomma da lì è un gruppo di dei ragazzi dovranno scoprire che succede insomma immagino questo penso che sia la storia insomma sospetano che il clown non sia poi un giocattolo ma un bel mostrone diciamo che notturno dice stupisce davvero gli da ben tre stelle allora devo essere sincero non ho grandissime aspettative per questo film però anche i film così che hanno quest'aria un po congiuliana poi alla fine possono rivelarsi degli ottimi film da serata di intrattenimento senza diciamo mettere in campo necessariamente tematiche importanti o una forte componente artistica di rilievo dovrebbe essere il secondo film del regista che si chiama lorence flower regista anche di course of the witch doll in precedente dove c'è questa faccia di bambola con gli occhi enormi mi aveva incuriosito perché era molto molto strana molto weird comunque sono ben felice che entri a far parte della mia sono ben felice che entri a far sono ben felice che entri a far parte della mia collezione mi piace molto il design mi piace molto l'idea del pupazzo cattivo vediamo se saprà intrattenerci di jack in a box c'è già in lavorazione il seguito jack in a box 2 insomma potrebbe essere che vedremo un jack in a box universe tra un po questo invece ho aspettative alte anche se dico sempre che non bisogna avere aspettative quindi cercate di non farvi condizionare troppo da quello che vi aspettate però per me è molto difficile perché io amo tantissimo richard stanley che è il regista di hardware ed è anche il regista di il colore venuto dallo spazio film che vede tra i protagonisti che è il grandissimo ormai mi viene da dirlo il grandissimo nicolas cage perché ho troppi troppi film a cui sono affezionato in cui nicolas cage è fondamentale tipo face off o anche mandy a finché a me è piaciuto molto e dove lui è molto bravo questo è tratto da un racconto di lovecraft molto famoso su cui sono stati fatti tantissimi altri film quindi difficile difficile andare su questi temi sicuramente è un film di cui ho sentito parlare benissimo e malissimo quindi praticamente come se non avessi sentito parlare e io penso che chi è un amante di lovecraft come scrittore quindi che ha letto i suoi racconti forse ha più difficoltà ad apprezzare questo film mentre chi invece è totalmente a digiuno e non gliene frega una mazza di lovecraft probabilmente potrebbe apprezzarlo di più io sono più dalla seconda parte ma non perché non apprezzi quello che ha fatto l'orca fanno perché ovviamente ho letto poco e niente sono una capra ignorante andiamo ad aprirlo richard stale ha fatto quella capolavoro che è hardware che un film di fantascienza leggermente horror ma soprattutto un film di fantascienza stupendo stupendo meraviglia delle meraviglie insomma mi piacciono come ho già detto in altri video tantissimo le stampe all'interno della copertina penso che esista anche un'edizione molto più figa che però si poteva ottenere facendo la start up quindi seguite cg nel loro gruppo per seguire le start up e partecipare all'interno trovate anche making of e scene eliminate questo sarà uno tra i primissimi che guarderò perché sono curiosissimo passiamo a rapture rapture film di steven sheinberg il regista di segretari è un film segretari po malattiello per cui un po sono curioso di sapere che cosa racconterà questo film con tra l'altro dentro nomi rapace che è l'attrice che ha fatto il bellissimo film a me è piaciuto veramente tanto seven sister un film distopico futuristico di fantascienza veramente molto bello in cui lei è bravissima interpreta sette personaggi veramente un'attrice incredibile secondo me ed è anche molto famosa per uomini che odiano le donne un altro film precedente mi sembra in questo film è protagonista interpreta una madre che viene rapita una madre di un figlio di 12 anni che viene rapita improvvisamente si ritrova legata in una specie di struttura ospedaliera non vi dico altro per non spoilerare cioè quella rap e non ne son capiamo questa è l'edizione rotate 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 voilà rapture dovrebbe essere un film abbastanza malattiello ma del resto il regista di segretari non si poteva aspettarsi di meno ecco passiamo a un caltone degli anni 80 di marcello vallone petri questo sinceramente non me lo ricordo credo che sia abbastanza trash quindi da avere assolutamente apriamolo praticamente durante degli scavi per la metropolitana di roma vengono trovati delle catacombe e degli archeologi andranno dentro queste catacombe per indagare ovviamente succederà di tutti di più carino mi piace molto la grafica bianco con la scritta rossa spettri vi farò sapere com'è poi passiamo a qualcosina un po più di livello island empire di david lynch più un thriller l'impero della mente ovviamente lynch è così cioè lui è un navigatore dei meandri più oscuri della mente quindi non poteva che essere l'impero della mente io penso che ci voglia sempre una grandissima energia psichica psichica anche psicologica per affrontare lynch ci vuole molta energia perché ti mette alla prova è molto duro nel suo approccio molto 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 pesante molto mi viene in mente anche resi red c'è non è proprio un film leggero ecco molto pesante a livello psichico e lo è sempre lui lo è sempre anche persino tu in pixel ma è una serie che macigno secondo me ma in senso positivo è molto c'è molto molto contenuto psicologico e psichico da affrontare sempre un grande impegno se lo si vuole in qualche maniera capire stringo la mano a chi lo capisce però insomma io ci provo passiamo un altro grandissimo anche lui nato con film indipendente come lynch insomma cioè con un film indipendente che è diventato subito un cult come erasered è diventato subito un subito insomma è diventato un cult ed era un film con film indipendente anche lui è nato con insomma è stato conosciuto con un film indipendente che ha spopolato nel mondo proprio è un film che conoscono tutti anche i non avanti dell'horror anche non avanti della fantascienza tutti conoscono tetsuo di tsukamoto e io però non ho mai visto nightmare detective e allora me lo sono fatto inviare e veramente non vedo l'ora e dentro c'è anche un intervento di enrico ghezzi che non si può certo dire che non capisca un cazzo di cinema anzi aveva anche quella bellissima trasmissione dove io ho visto per la prima volta tetsuo io l'ho visto su fuori orario perché ghezzi mia mi ha permesso di vedere tetsuo o altre chicche meravigliose come che ne so vinil di andy warrell che è la trasposizione del libro di arancia meccanica per esempio chi dire ragazzi cioè oggi è veramente difficile avere un canale dove uno possa attingere così facilmente a così tanta cultura oggi veramente impossibile ai miei tempi quando ero giovane bastava aspettare un certo orario andare su mi sembra fosse rai 3 e passare la nottata a guardare una follia iper intellettualoide proposta da enrico ghezzi mi si è spenta la telecamera porca cazzo stavo dicendo ah sì fuori orario grandissima trasmissione ragazzi senza quella molti di noi non avrebbero conosciuto un sacco di film molto interessante sto film che ovviamente io conosco da anni e non ho mai visto me a colpa è arrivato il momento bella l'edizione sa perché quando li apro sono sempre 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 al contrario il disco e libretto tac bella edizione nightmare detective altro film che non ho mai visto è che è veramente un film importantissimo in quanto primo film di giud amato e non solo anche unico film penso da quello che ho letto che l'unico film che riporta accreditato col suo vero nome che eristi dei massaccesi la morte al sorriso all'assassino meravigliosa questa questa locandina prima inquietante incubo del maestro dell'horror giud amato va scritto perché poi c'è questa cosa che chiaramente uno magari anche più giovane non lo sa che che il nome il vero nome aristide massaccesi quindi quando chi lo cita dice aristide massaccesi che tra altro è un bellissimo nome cioè mi piace veramente come suona e come come sta insieme però vabbè il mercato forse all'epoca voleva che il nome americano fosse vendesse di più che ne so che questo non vedo l'ora di vederlo voilà infatti al contrario bellissimo dentro abbiamo un capo ma invece una figata perché ci sono sorri della morte intervista franco gaudenzi aristide massaccesi e toni asking quindi insomma bell'edizione secondo me vediamo poi che come si vedrà avevo e da citare anche che è scritto anche bello grosso centro c'è come tra i protagonisti crown schischi che i più anziani ricorderanno poi questo è un film un'edizione veramente molto curata della setta di michele soavi il retro all'interno c'è una marea di roba ma loro mio non muore intervista michele soavi dentro le catacombe intervista luca verdone i segreti del pozzo intervista gianni romoli la setta dei senza volto interviste a davide pulici da reagento claudio bartolini antonello geleng il area feole giovanni lombardo radice sergio stivoretti e poi il trailer bella edizione vuola e vuola ne ho altre di edizioni fatte con questa grafica non è male poi ultimo film che mi ha inviato cg ente teme che ringrazio nuovamente per avermi dato la possibilità di fare questo unboxing e comunque di vedere un sacco di film che mi mancavano film italiano nuovissimo è un thriller dal trailer mi sembra uno di quei thriller che interessano a me poi il trailer posso sempre ingannare però quello che ho notato è che ci sono delle bellissime facce degli attori sconosciuti non me ne vogliano però nel senso volti meno noti questo è un bene per il cinema italiano scedo di carlo lavaggio anzi shadows shadows di carlo lavagna interessante anche il design della copertina è un thrillerone mi ha ricordato come fotografia come tipo di regia master veramente sto parlando solo del trailer quindi potrei anche veramente sparare fuori da dal bersaglio mi ha ricordato un po di nest quindi magari un po il genere quello sono abbastanza curioso di vederlo vi farò sapere sicuramente sui nostri canali com'è e anche gli altri titoli chiaramente andiamo ad aprirlo eccolo qua apriamolo ed è al contrario nice veramente bella la fotona così bella l'edizione speriamo bello anche il film rimanete collegati che non aprite questo blog per sapere come sono questi film e avere qualche mia opinione a riguardo ragazzi questo è tutto per il video aggiornamento della collezione sono davvero contentissimo sia per aver incrementato la mia collezione sia perché sono film veramente alcuni sono dei cult assolutamente da recuperare e che sono felice di aver avuto altre sono novità interessanti e che avevo veramente tanta curiosità di vedere quindi ringrazio tantissimo ci gente per questi film e vi invito anche a iscrivervi al loro alla loro newsletter al loro sito per comprare questi film dal dal sito perché spesso ci sono tantissime offerte e hanno veramente una grande quantità di cult vecchia data quindi teneteli d'occhio questo è tutto per l'aggiornamento della collezione ci vediamo a mi raccomando ricordatevi di cliccare la campanella per ricevere notifiche dei nuovi video ci vediamo al prossimo video sostenitori e odiatori un bacione